C'è molto trucco e c'è molto inganno. Lo zoo di vetro opera teatrale del celebre drammaturgo e sceneggiatore statunitense Tennessee Williams arriva alla Teatro Comunale di Todi martedì 25 gennaio alle 21 con l'adattamento e la regia di Leonardo Lidi nell'ambito della stagione del Teatro Stabile dell'Umbria. L'opera racconta le vicende della famiglia Wingfield, divenuta famosa anche grazie a numerose versioni cinematografiche. Lo zoo di vetro è il testo più autobiografico di Tennessee Williams, commenta il regista Leonardo Lidi e mi permette di continuare la ricerca scomponendo e toccando l'universo proposto dall'autore. Come si muove la famiglia nel tempo? Come si sposta il teatro tra i secoli? Il dramma borghese necessita di limiti dettati anche dall'amore e analizzare di volta in volta lo spessore delle pareti che ci circondano resta il mio interesse prioritario in questa esperienza registica. Per assistere allo spettacolo si può prenotare telefonicamente al botteghino regionale del Teatro Stabile dell'Umbria tutti i giorni feriali dalle 16 alle 20 oppure online sul sito del Teatro Stabile dell'Umbria. Grazie. 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 Grazie.